Sono il Collegio Arubano e l'anfitriore di più di 30 studenti di diversi paesi in Europa per un simbolo di intercambio e per il tema di sostenibilità. Mi auguro di invitare a portare un par di pari di parole di buoni studenti e studenti e i docenti, junto con i nostri studenti nel locale di questo progetto. E' un'altra luna che vi faccio, e nel final vi presento un buchi nel quale non è affocato la importanza che noi abbiamo fatto il uso di plastica perché così non solo per garantire la sostenibilità. Qui in Arubatame non si guarda il nostro nord e costo per l'arriba ma si guarda la società di un altro luogo che arriva al nostro paese. Quindi la società di roba di plastica è che noi abbiamo fatto attenzione. Per esempio è un compromesso che mondialmente si guarda così che noi abbiamo fatto il uso e il consumo di plastica per assinare a evitare che non sia in un paese che non sia in un paese ma in Quintana, Aruba. Mi sta agradecendo il Colegio Arubano per organizzare il progetto e per partecipare nel progetto qui. E' un'obbio, non solo dedicazione e energia, ma anche sacrificio per non poterlo. E mi sta dicendo un'obbio, 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 che sono qui, sono studenti e sono docenti di diversi paesi di Europa a Quintana e Aruba. E ho la che ciò che vi mostrano un'obbio che ciò che sta facendo per il terreno a Quintana. Hobbi, Hobbi, Exipo.